ragazze ragazze ma state ancora dormendo auri ludo sveglia dai che dobbiamo andare a danza su abbiamo il corso di pop oggi dai presto aurora ma cosa in testa ludo scusate alzatevi un attimo ora auri svegliatevi ma ma cosa avete in testa ma cosa avete in testa alzatevi un attimo no no ma cosa avete in testa cosa vi siete combinate i boccoli i boccoli se li scegliamo ma state scherzando ma che si fanno così i boccoli ma come avete fatto a dormire con questa roba in testa non lo so ok adesso devi toglierci ok ok io te li toggo a te ok vediamo no vabbè ragazzi io non ce la posso fare mamma io te li toggo ma non ho capito questa è una pittinatura che fa diventare i capelli buccolosi fatemi vedere vediamo voglio proprio vedere guarda no no sapete chi sembrate eh guardatemi un attimo sapete chi sembrate titina e concetta vai vediamo come sono venuti a ludo perché vediamo no vabbè non ci credo che questa pittinatura fa i capelli a boccoli e poi muovetevi che dobbiamo andare a danza abbiamo utilizzato ma cos'è sta roba no guarda allora non ti puoi guardare no ma lasciami stare non ti si può guardare auri povera lullu ma che ti ha combinato auri pronta aspetta vediamo oh mio dio oh mio dio oh mio dio aspetta oh mio dio oh mio dio mamma sono venuti vediamo non ci credo che carina che sei nuoto ma guardami oh ma sei meravigliosa ma allora funziona per davvero questa pettinatura eh l'hai fatto la cate ma dove l'avete vista questa pettinatura oh mamma mia ludo che ma non sbota sbota non dica sbota vai vai piano però piano piano vai no vabbè ma dove l'avete vista questa pettinatura no guardatemi che stai facendo dove così qua dove avete visto questa tecnica auri eeeh oddio fatto no vabbè ragazzi funziona non ce la posso fare vado anche voi a casa se volete però vi dico che fa un po' male cioè voi avete dormito tutta la notte con questa roba in testa ma non state mica bene ma vi volete sbrigare che dobbiamo andare ai pop su muovetevi quando voi stavate dormendo io l'avevo presa in banno ah vi siete alzate di nascosto e che ore erano? no mamma mia le due di notte cioè voi alle due di notte vi mettete a fare queste pettinature invece di dormire no ma adesso non mi raccontate tutta la scena mamma no vabbè no mamma tu però non è che adesso li dobbiamo pure tagliare i capelli che si sono tutti imbrogliati vediamo che bella che sei lauri ma i miei sono fino a qua i miei sono fino a qua vediamo no vabbè madonna che bella che sei lauri ma funziona per davvero questa pettinatura te lo ho detto io no aspetta adesso adesso ma i miei arrivano fino a qua e perché ne sono venuti così? perché Ludo tu ce l'hai più lisci però non ti preoccupare magari dopo utilizzo un po' la piastra e te li faccio ancora più ondati adesso però ragazze muovetevi vi ho preparato tutto l'occorrente sul letto vestitevi perché dobbiamo andare a hip hop ci aspettano su ma io non ho fatto colazione e pranzo su muovetevi non mi riesco ad alzare ho troppo dai abbiamo un crampo non dobbiamo abbiamo un crampo io mi sono accorta una cosa che ho dormito con i calzini pure dai su scendete wow che carina che sei amore è buono no comunque ragazzi allora io ho scelto questo pigiama perché sono un po' alternativa qui sono team inverno mentre qui team estate ragazzi no vabbè non ce la posso fare la primavera un po' mi scaccogliano nell'estate nella serie hai preso la prima cosa che ti è capitata dal cassetto io invece ho preso questo pigiama che questa sei tu e questa sono io che cioè senti signorina vedi di muoverti comunque ragazzi quanto è bella Lulù cioè ragazzi ragazzi no guardate guardate ma vedete questo questo metodo funziona ragazzi guardate sì solo che sembrate due scappate di casa adesso muovetevi andate a fare colazione su ma quando ci ripetitiamo ci si muovono andiamo a fare colazione ragazze volete venire che qui è tutto pronto su arriviamo vi dovete vestire Ludo mi sto l'attimo toccando eccoti Ludo dai ti sei lavato il faccino e i dentini su vestiti però c'è tutto l'occhio sonnato ancora sonno dai adesso balli ti scateni e ti passa tutto il sonno ah ragazzi ho preso anche una felpina vediamo fai vedere ai nostri amici unicornini cosa indosserai oggi per la tua lezione di pop vediamo vediamo facci vedere Luli felpina rosa hai scelto poi felpina rosa maglietta di flower che ha visto il video la conosce già vi lascio i video qua sotto poi pantalone pantalone azzurro invece aurora allora questa maglietta è molto bella che c'è scritta hacker laker e english e poi un pantalone di tuta anche lei dai su adesso vestiti ragazzi è normale guardate tutte le cose di aurora sono tutte le mie cose sono colorate si adesso però vestiti su 3 2 1 via eccomi qui Ludovica è andata a vestirsi e adesso tocca a te auri hai un'orecchia sventola ecco perfetto io metterò questa maglietta dai dai è un crotopo e poi questo pantalone ok dai sbrigati che tardi presto muoviti ok mi vesto mamma io sono pronta va bene guarda ok dai andiamo sei pronta metti la felpa per forza metto la felpa eh si devi mettere la felpina fa freddo fuori auri allora dove sta aurora sta ancora a zero ci muovi ragazzi questo è il risultato finale i capelli in mosse i trucchi ma non dobbiamo andare a fare la sfilata di moda dobbiamo andare a fare i pop noi due dobbiamo essere molto cool ma muovetevi camminate andate va ragazzi la cosa fondamentale Ludovica la cosa fondamentale l'acqua ecco è l'acqua la cosa fondamentale non ragazzi presto presto dai su muoviti presto presto mettendo ragazze anche anche dietro cioè ragazze ma non si mette il profumo per fare pop dai su che suderete pure aspetta mamma mia mamma mia ok ragazzi ok mamma tocco finale ludo ludo tocco finale tocco finale ma vi sbrigate dobbiamo riscaldarci dai andiamo ciao no 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 mi dispiace ciao Leo no no amore no mi dispiace vai dentro dai dai su che parte Leo sei in fila dopo Leo mi senti fatto un'altra cosa dove c'era un cane vai Ludo sali mamma la pena della scuola come si trova questa penna qui dai su bellissimo let's go vai chiudi 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 Auri siete cariche continua su SS62 Ludo tu sei un po' scarico o sbaglio sei un po' scarico o sbaglio ma dove sei riprendendo eh si eh cosa stai facendo Lulù Aurora già sta ballando cosa sta ascoltando canzoni inglesi e Ludo fa yoga molto rilassante così dopo mi scatino papi ci sei la grandissima c'è anche un bacione esci dalla rotonda e prendi via Borgobello ecco quasi quasi mi metto a danzare anche io si potresti fare qualche lezione di pop continua su SS62 per un chilometro su su presto che tra poco la lezione inizia ma ma che notte sono già arrivate le pannecline eh ragazzi noi veniamo qui sia per fare danza ma anche per fare le prove delle nostre coreografie lo sapete e andiamo sempre il sabato perché così non si va a scuola esatto e oggi ragazzi balleremo l'esercito degli unicorni e si e vi faremo vedere la nostra coreografia dell'esercito degli unicorni perché qui Ludo inventiamo anche le nostre coreografie vero? si e andiamo dai non perdiamo tempo allora andiamo subito no ragazzi prego mamma venga ragazzi questa è la nostra sala dove facciamo le prove e queste sono le nostre bellissime ballerine andamole a conoscere ragazzi lei è Nicole ciao lei è Asia ciao e lei è Chiara ciao ciao Chiara e adesso insieme a loro faremo le coreografie delle nostre canzoni lei è la nostra coreografia Barbara ciao a tutti ma su iniziamo che è ora di lavorare su 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 dai 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 non perdiamo tempo al lavoro ragazze dai 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 numerosi dai e arrivassiamo all'azienda e poi si dai a tutti dai si si Sì, sì. Sì, sì. Oh, 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 non ci arrendiamo mai! Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore, come nei sogni tutto quanto si può realizzare. Noi siamo gli unicorni, te viene a cantare con noi. Oh, 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 non ci arrendiamo mai! Noi faccio un giro, torno sopra un raggio di sole, così felice che non servono più le parole. Mi lascio andare a tanto come palle di sapone. Oh, 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 oh. Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore, se stiamo insieme tutto puoi diventerà speciale. Noi siamo gli unicorni, te vieni a cantare con noi Oh, 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 non ci arrendiamo mai Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore Come nei sogni, tutto quanto si può realizzare Noi siamo gli unicorni, te vieni a cantare con noi Oh, 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 non ci arrendiamo mai E ora, lo sai, gli unicorni non si arrendono mai Bravi, bravi Sto benissima, come stai? Hai un po' il fiatone, Aureo, sbaglio E' impressione? Oh, 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 oh Oh, 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 oh abbiamo sede qui ludo stai facendo pausa su su a lavorare niente avete fatto due canzoni fino ad ora non è bevuto proprio bravo bravo bevi bevi che fa bene bere non ti riposare troppo però è ari sei stanca no su su sgobbare sgobbare concentrato ludo tu sei stanca sei sicura ludo non è che ti addormenti sul pavimento mentre balli unicorni no 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 non ti aggrappare mamma mamma questa cosa seria lo devi mettere giù i pantaloni alzo dai lo devi mettere giù i pantaloni alzo dai lo devi ok ma metti giù i pantaloni con il ponte del islele mi favo lo are il oh 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 Grazie a tutti. Ok ragazzi, abbiamo fatto i nostri due balletti, adesso è arrivato il momento. Sì. Andare. La lezione è finita. Esatto. Voi siete stanche? No. Io. Dai, allora ci vediamo sabato prossimo. Bene, bene. Venite anche con le altre? Sì, sì. Ok. Ciao, ciao. 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 Quindi ragazzi siamo a sabato prossimo, mi raccomando. Ciao ragazze. Ciao. Allora Barbara, come sono state queste ragazze oggi? Bravissima, bravissima. Sì, bravissima. Sì, bravissima. Sì, bravissima. Sì, bravissima. Bene. E passate, mi raccomando, ripassate. E ripassate, mi raccomando. Brava. Sì, sì. Va bene, allora ci vediamo sabato prossimo. Ciao. Ciao, ciao. Aurora, e questa qui chi la mantiene? Questa chi la mantiene? Oddio. Chi? Chi la mantiene? Mamma, mamma, c'è un gabbiano. Chi la mantiene questa? Oh, mamma mia. Noi siamo gli unicorni, grande esercizio del cuore. Se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale. Noi siamo gli unicorni, beh vieni a cantare con noi. Oh, 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 non si arrendiamo mai.